ciao bentornati eccoci al settimo credo che sia il settimo video in cui leggo articoli che ho scritto finora sono stati tutti articoli in relazione alla pandemia in relazione al lockdown e a quello che il governo e i governi mondiali hanno ci hanno servito sulla scena di questo evento continuo con sempre con questo argomento con un articolo un po diverso del solito che è analitico ma è è più uno sfogo un motto di spirito sentito una provocazione fondamentalmente una provocazione anche il prossimo sarà sempre una provocazione cioè consideriamo che questo dovete considerare che questo l'ho scritto il 18 aprile scorso faccio queste due provocazioni e poi inizierò con la serie di articoli dedicata a quello che chiamo un partito ideale quindi delle riflessioni più propositive in cui tenterò di descrivere la struttura le fondamenta i contenuti e il carattere di quello che secondo me deve essere un partito ideale ora a esigenza a mio parere imprescindibile allora iniziamo con questa provocazione e cercherò di leggerla in maniera pensando a come a come la sentivo dentro mentre mentre scrivevo libertà o carri armati le vie di mezzo sono desolanti il pensiero unico sordo ad ogni ragione non lascia alternative fossi egoista anche un po misantropo normalmente uso ad un istintivo distanziamento sociale potrei anche dire con un malcelato sussiego a me cambia poco tanto ero quasi tutto il giorno in casa a scrivere e me ne tornerei nel mio mondo insensibile disinteressato alle sorti del paese e del prossimo avrei un'aria quasi compiaciuta nonostante quella che è pur sempre una resa un senso di ineluttabilità per avvenimenti sui quali non penserei mai di poter fare qualcosa una comoda e razionale impotenza che non scalfirebbe di un millimetro la mia presunta superiorità il problema è che non mi considero egoista o superiore tanto meno superbo ma proprio non ce la faccio a non sentire la mancanza d'aria democratica quando osservo i mascherinati in fila non posso non avvertire un pugno allo stomaco per lo schivarmi del prossimo o per la grottar di ciglia alla mia faccia libera mentre cerco il parco sole nel breve tragitto al giornalaio le mascherine poi immagine di un incubo antiscientifico mascherinato da scienza per un virus terrore tv inoculato che cifre alla mano si sta rivelando ben peggiore di una pandemia ormai chiaramente presunta e lo sdegno dei balconi ennesima conferma che il potere anche nell'era dell'informazione e della tecnologia non dimentica quanto siamo schiavi quanto ancora non capiamo che la parte oscura del nostro essere anela come sempre scavalcar la ragione per stringere le emozioni in un senso di gendarmica riprovazione sociale per non parlare di quei poveri vigili che multa in resta pattugliano solerti le vie del peccato a nulla vale constatare quanto il presente sia in effetti un periodo nel quale abbondi materiale con cui sfamare satira ed ironia chi avrebbe mai immaginato elicotteri e droni cacciar singoli viandanti o mirare barbecue su povere ma libere terrazze per non parlare di circolari e degreti contraddittori scritti da zampe di gallina anticostituzionali e la lotta fra i sacerdoti della teoscienza alla faccia di quello che a detta di alcuni di loro sarebbe un sapere non democratico chi avrebbe mai creduto ad un procurato collasso economico per motivi sanitari per non parlare dell'incetta di provviste ministeriali mentre si tranquillizzava il paese per poi asfissiarlo civilmente ed economicamente chi avrebbe mai immaginato che la farsa tv pandemica riuscisse a giocar così abilmente con le cifre talmente bene da fare invidia i bari più svelti di mano e la borsa lasciata lavorare durante i giorni più devastanti della crisi e la tragica ricerca del debito salvatore mess perché ancora non si vogliono accendere le rotative della zecca nazionale regalate alla bc anche quelle e la farsa di aiuti di stato che sarebbe meglio dimenticare se si vuol mantenere ancora un po di dignità libera dalle banche e le censure invocate praticate dai maestri della farsa mediatica come non sganasciarci per la retorica dei canali ufficiali che farebbe ribaltare la sedia di qualsiasi persona dotata di un minimo di senso logico e l'azione complessiva di un governo non avvezzo ad un minimo di autocritica è forse proprio per questo che continua imperterrito a farci scontare i suoi errori con un regime liberale ora tecno tv sacralizzato dai tecno sgherri delle corporazioni guidati da colao e non riesco a non vedere per l'ennesima volta la basilare insufficienza di alcuni attivisti ed intellettuali che non riescono ad andare oltre l'economia oltre la critica al mess certo sacrosanta rimanendo però all'interno della narrazione che pone il focus sul fatto che la pandemia sia comunque reale nonostante le cifre e che la crisi derivi da quella non dalle misure della politica ce ne sarebbe in abbondanza di materiale per un umorismo acido ma non riesco ad abbandonarmi non ho voglia di sogghignare neanche amaramente proprio in questi tempi che la nostra bandiera somiglia sempre più a quella greca invece mi prudono le mani quando accendo i media proprio non sopporto la confezione da maestri della tecnologia non riesco più a digerire il continuo show per non parlare della videomania casalinga urlata a basso costo grazie al nostro idiota consenso ci stiamo iniettando l'ideale smart mentre recitiamo distratti l'ultima eco del pensiero unico progressivo andrà tutto bene ma non sarà più come prima e vai con iniezioni di consenso disinformato in attesa di punture obbligatorie addirittura anelate anche se scientificamente ed eticamente aberranti per tutto questo quale sorriso non posso avere altre voglie se non libertà chiarezza ordine ecco resta solo una strana voglia di ordine evidente manifesto alla luce del sole basta con il disordine ordinatissimo dell'oggi con la sua rappresentazione liquida sgargiante e tele imbonita ad alto volume e la libertà che fine fa ordine non faceva rima con disciplina certo però sarebbe una tragica assonanza no amo le differenze creative per me ordine fa rima con libertà con quel senso di tranquillità che solo ampi spazi fisici e spirituali possono dare ecco ordine e libertà se riusciamo a vederlo diventano una grande parola responsabilità una parola impegnativa ma oggi è sinonimo di conformismo ed è qui che capisco definitivamente quanto sia grave il momento quanto si avvicini il giorno che digrignerò i denti al solo sentir pronunciare libertà mentre osserverò il suo esatto contrario e allora prima di arrivare a odiare le parole più amate dato che siamo in una dittatura strisciante finanziaria e tecnocratica una dittatura mascherata da politica spettacolo distraente dei media visto che conte ha abdicato in maniera soft istituendo una commissione tecnica non scritta in costituzione se quindi libertà non può essere sapete che vi dico che ordine sia ma quello vero pesante visibile quello che avanza in divisa al frastuono di cingoli e reattori quello che ci vuole nelle strade con grida e bandiere davanti e baglionette dietro ordine bello e marziale sì ordine disciplina chiaro limpido come il sole magari in galera tutti i responsabili dello sfascio del caos organizzato per interessi privati delle immorali miserie televisive uno stato forte una dittatura palese luccicante e volitiva non la pletora conformista e lacché di finanze e corporazioni almeno saprò veramente chi è il nemico se libertà non può essere almeno ordine sia se dovrò portare una mascherina se dovrò evitare il contatto se non potrò viaggiare fisicamente e virtualmente se non a modo loro vorrei che mi si obblighi con la forza non con la nauseante riprovazione responsabile del prossimo cieco sordo e colluso ma ancora illuso che tutto vada bene solo allora forse potrà rifiorire un rigurgito di dignità uno spiraglio mentale di pentimento per lo scena cecità dell'oggi uno sguardo affranto di scusa da quelli che non volevano vedere certo con un nuovo ordine potrebbe essere peggio dovremo ingegnarci parecchio per capire di chi fidarsi veramente per ricostruire una libertà affogata da un controllo sempre più minuzioso e perspicace come oggi stiamo iniziando a capire potrebbe essere più difficile più pesante asfissiati dalla nebbia che avvolgerà la nostra vita abbiamo altre chance così finiva questa provocazione ripeto era il 18 aprile del 2020 poi lascio due link in fondo un mio vecchio articolo intitolato politica alternativa al sistema impresa disperata in cui descrivevo il sistema i tre ambiti in cui il sistema si dipana e tre livelli e le tre necessità che secondo me dobbiamo capire per costruire una politica realmente alternativa a questo sistema poi l'altro link è quello che metto sempre in fondo del mio libro che è un programma politico ispirato ai diritti umani a questo punto vi do appuntamento per il prossimo video che sarà l'ultima provocazione quella che ho scritto qualche giorno dopo questo che parla del fascismo soft attuale quindi in qualche modo una provocazione che prosegue sulla strada di questa anche se meno accorata più analitica e poi arriveremo alla serie di articoli sul partito ideale a questo punto non mi resta che ringraziarvi ricordarvi di iscrivervi di condividere e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao